oh dio ah ah sono una props allora sembra una cosa femmina proprio una proposta oh mio dio mammao mammao quando ci rimandi? 16 secondi dai madonna santa quei lento 9 8 7 qui c'è sempre casino ok la verità di papà 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 lo stesso posto tutti gli stiti via accometto non mi troverai mai si si ok come prima si verrà eh ma prima perchè mi sono mosso io eh perciò non mi troverai eh tipo ah ma stavi oddio oddio ma chi è che cazzo ok 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 ora si è ucciso cosa? ah what? quante volte ha sparato ok si può cambiare la visuale tipo oddio 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 ragazzi No, mi hanno scoperto Maledizione Senti? Sì Siamo una volta Sì, me lo so Comunque è sorta come si fa a saltare Come? No, no, niente, scoperto No Ho il 30% di vita 20 ans Oddio questo Mi sta a fare il giro della mappa Che cazzo Oddio 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 Cio dove è passato Dove è passato prima Dove è passato Dietra 1 Non se ne accorto Sese come riccio Round 5 Ah, maledizione non è mai c'è neanche cosa si inventa questa volta questo è che io via yes dai che mo' posso farci posso fare da arrivare là a a a a la scondiglia perfetta posso immaginare no ma dove sono no non qui no ho perso un po' che c'è maledizio di cui no ma dai a me non conosco la mappa non fai no io questo è impossibile no no è un genio del male oddio no abbiamo vinto neanche immagino dai su dire così scopriremo ce ne sono due impossibili ce ne sono due impossibili no 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 dai se lo trovo non mi incazzo posso dire un po' no dai su c'è uno che è fermo non capisco perché dai quella è un grande maledizio saluto no caspita oddio quante ce ne rimangono ehm oh non sta scritto qua dentro che c'è ah tra l'altro lo scondiglio possibile ma ma sei props tu no no sei undergay no non ci sa vabbè questi due non li troverete mai dai giù lo scopro no è impossibile oltre non so neanche dove cazzo è no impossibile impossible impossible impossibile impossibile oppo mannaggia mannaggia il misterio dai io questo io questo cosa stanno per scoprire uno Ah no no Stupido Maledizione Dai Grandizze Questa in maniera Impossibile Ora ci ne scondo pure io Oh ma dovevo Cerca molto longa di Sì tipo Allora uno praticamente No Che impossibile Non verrebbe mai a nessuno di Gabbè Dai che c'ho 10% di vita Dove essere Archie's Mega Sicuro Che sia un props Questo è ristaprendo per il curo Ah Mi fa la oddio Oddio No 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 Ti vengo a prendere Ma le Eh Cosa ci fa un pneumatico qui Grandissimo Oh caspita sta Mi prende troppo per il culo No No perché sei uscito Che No No Che è quello No No Mannaccia Che non ho messo dov'era Dove Ma ti fai tu Nelle gambe La mia Grazie a tutti. Grazie a tutti.